Quest'anno alla sitemast parteciperò presentando la nostra casistica su monkeypox. Monkeypox, o vaiolo delle scimmie, è un'infezione virale dovuta a un cugino del virus del vaiolo che si ha estinto e che si è presentato nel luglio 2022 in tutto il mondo con una casistica di circa 90.000 casi con un tasso di mortalità molto basso che però ha sorpreso la comunità scientifica e medica di tutto il mondo per le sue caratteristiche di presentazione. Perché l'abbiamo visto noi dermatologi venerologi? L'abbiamo visto perché i primi casi si sono presentati nella nostra osservazione, in particolare nella dermatologia venerologia, nelle MST del San Gallicano, con lesioni dermatologiche localizzate ai genitali, lesioni papolopustolose. Questo ha portato a fare diagnosi grazie al supporto del laboratorio di microbiologia dello Spallanzani, degli ALEST del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, a poter identificare e immediatamente isolare i primi casi e tutti gli altri e soprattutto a indirizzare i pazienti leggibili, quindi maschi in genere sessualmente attivi, verso la vaccinazione. Al momento l'infezione si è placata, possiamo dire che è praticamente estinta e quindi nessun pericolo, nessuna alert per il momento per la popolazione generale, ma è importante che di fronte a nuove manifestazioni dermatologiche, soprattutto che interessano i genitali, le persone sappiano che si devono rivolgere a centri specialistici che sanno come gestire anche le nuove presentazioni cliniche, anche di nuove infezioni, di nuovi spillover, appunto come è successo per Monkey Box.